Io oggi sono furioso, io oggi sono furioso, come cazzo fai a pareggiare una partita del genere? Questi non pareggi... non stanno facendo un cazzo, avevano avuto solo l'inizio buono e tu sei stato capace di pareggiarla, pareggiarla due a due. Abbiamo la pareggite, pareggite! Siamo quattro vittorie e sei pareggi in campionato. Quattro e sei! Io non posso credere a quel che cazzo ho appena visto, partendo dalla formazione... oggi non ci sta trippa per gatti. Gatti, che torna a titolare, con al fianco quel bollito, perché adesso mi sto rompendo il cazzo, bollito di Danilo, di Yocane. Gioca Danilo, ha fatto due partite escene, perché cazzo sta giocando questo? Perché cazzo sta giocando? Poi il resto ci posso pure stare, cioè il Diz non gioca, fai i ripropi, la carta del super sub. Partiamo. In banco partiamo del prato ci segna. Là del prato ci segna, ci bucano perché c'è Danilo, c'è Danilo, esiste quello, esiste. E ci bucavano in testa, dal prato la mette dentro. E poi arriva l'occasione. Duzia Vlaovic. Pallone filtrante a cercare McKennie. McKennie ha fatto un partitaso, oltre al gol. Comunque pallone che filtra, arriva a McKennie. Pallone che viene respinto da Suzuki. E c'è Luzia Vlaovic. Luzia Vlaovic, nato nel 2000, classe 2000. E che, benissimo, decide di tirarla alle stelle. Io non posso, io non capisco Vlaovic. Io posso, allora, io ho già detto che a me dei gol della Madonna come quello con Lipsia, a me non me ne frega un cazzo se tu non riesci a fare questa occasione. E poi questo è più forte di Lautaro, è più forte di questo, è più forte di quest'altro. Come cazzo fa un attaccante pagato 80 milioni e pagato, fin ad ora, 36 milioni di euro di stipendio negli ultimi tre anni a sbagliare un gol del genere? Io lo voglio capire, lo voglio capire! Poi sbaglia stop, sbaglia questo, sbaglia quell'altro. Io cosa cazzo devo dire per questo? Cosa devo dire? Io non ho parole, è al tredicesimo questo. La spara alle stelle, quando la poteva mettere tranquillamente dentro. Non è possibile. Poi, troviamo il gol con Weston McKennie, situazione di calcio d'angolo, pallone messo in metto, McKennie che si fa trovare pronto, la mette dentro, bravo. Su assist di Timothy Weah, arriva anche il gol. Dello stesso Timothy, che è anche là molto bravo. Ma io continuo a non comprendere questo cazzo. Io continuo a non darmi pace per le scelte di oggi e per Flavic. Poi, c'era anche stato il gol di Somme, eravamo stati di nuovo sotto 2-1, con Somme che tira la tassata. Poi Weah aveva pareggiato. Ma io non riesco veramente a darmi pace. Perché tu ti sei fatto bucare, non sei riuscito a bucare una squadra che ha una difesa di merda! Ah, di merda! I know! Antoine, I know! I know! Chi cazzo è? Weah, Qulibelli! Chi cazzo? Cioè, questo qua è l'unico che ha fatto veramente bene. E che conosco. Del prato. Baloc. Ma ragazzi, ma tu come puoi, Nourish? E stavi rischiando di prendere il terzo in contropiede con Charpentier e anche un'occasione con Alquist. Questi hanno solo l'attacco con Dennis Mann, Myaila, Bonny e manca pure... No, e c'è anche Bernabè, ecco. Ma tu dovevi bucarli. Questi... Tu ancora hai capito che devi fare. Uno. Tanto lavoro di resistenza. Perché questi sono schiattati. Schiattati. Ed non è una cosa accettabile. Poi, cosa devi lavorare? Devi lavorare a togliere Danilo dal campo. Danilo dal campo. Poi, dei giocatori decenti di oggi. Che freno. Le incursioni le fa. E quelle incursioni mi piacciono. Se non sbagliasse l'ultimo tocco per il passaggio, ma lo accetto. Locatelli. Locatelli fa il lavoro di interdizione, fa il lavoro di spacca partita. Ma perché cazzo non gioca centrale al posto di... Non vuoi far giocare Caludo? Non vuoi far giocare Cabal? Facci giocare lui come centrale difensivo. Facci giocare lui al posto di Danilo. La prossima volta accetto sia lui che... UEA punta al posto di Vlaovic. Perché non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Io non posso... Io non posso credere che abbiamo pareggiato contro il Parma. Poi, uno che... I due fantasisti sulle stelle stanno dando fantasia. Stanno cercando di fare qualcosa. Con Seysau e UEA. Ma più di quello non riescono a fare. Più di quello non possono fare. Banalmente. Con Seysau ci sta... Ci sta provando. Ma niente... Non può fare di più. Di Gregorio un po' oggi un po' a puttane. Che esce un po' va a cazzo. Un po' di qua un po' di là. Vabbè. Cosa devo dire? Poi c'è anche costato un po' il gol. Ma io veramente non mi do pace per gli errori che ha fatto quell'altro. Vlaovic. Quel gol è un gol che tu hai già fatto. È il gol che tu hai fatto già. È un gol che è già entrato. Lo devi appoggiare. Col pisello lo metti dentro. E invece no. Però poi quando fa doppietta. Magari è una partita proprio inutile che era già chiusa. Che cazzo insulti. Che cazzo insulti così contro la tifoseria che ti va contro. Per quei due che non sono dei fabboi. E che hanno un cervello. Io non riesco veramente a capirlo. Ci vediamo domani.